Ciao a tutti! Niente, questo video è solo per ringraziarvi, dirvi grazie per esservi iscritti al mio canale. Siamo arrivati a ben 400 iscritti in pochissimo tempo. Niente, vi ringrazio ancora di cuore, continuate a seguirmi e spero di non deludervi con i miei prossimi tutorial. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!